SITI NOW Ciao Alessandra, siamo qui di nuovo al Calaiunco per un altro venerdì, ormai il Calaiunco ci vizia con queste fantastiche serate Questa sera con noi saranno due special guest d'eccezione, una vocalist e una DJ, due donne Esatto, dobbiamo dirlo, due donne E appunto Emma Stoccolma e Andrea De Logu che appunto si esibiranno delle performance sia vocali che in console Quindi diciamo che c'è tanto fermento soprattutto per quanto riguarda gli uomini Quindi io direi magari di non perdere ulteriormente tempo, quindi che facciamo, andiamo? Eh sì, io direi di andare subito in pista E andiamo, andiamo Siamo qui con Emma Stoccolma, la DJ della serata Eh ma la tua è una carriera molto lunga, sei partita come modella, come ballerina Alla fine la musica ti ha preso, insomma, la carriera del DJ Ho fatto il giro lungo diciamo, ho sempre ascoltato musica, non ho un ricordo senza uno sfondo musicale Però sì, ho fatto altri lavori prima, poi un giorno ho avuto l'illuminazione e da lì in poi è un amore continuo Tu sei francese, però hai girato moltissimo per l'Europa, per lavoro, questa è la prima volta invece qui a Reggio Calabria E la seconda volta sono stata l'anno scorso, sono stata a radio, vabbè la location è stupenda E la sentì anche, quindi è un piacere per me tornare qua Prossime date? Prossime date domani a Trani, settimana prossima, non mi ricordo, comunque venerdì, sabato e domenica sempre in giro Ok, un buono dopo l'altro insomma Un buono dopo l'altro, seguitemi su Twitter così almeno siete più aggiornati di me Ok, grazie mille, Emma Stoccolma Davide E allora io mi trovo in compagnia con una delle special guest di questa serata qui al Calagliunco Andrea De Logu, buonasera e benvenuta a Reggio Calabria Questa passione per la musica che poi ti ha portato anche a calcare i più importanti palcoscenici d'Italia Mi ci hanno costretto Io ero sempre in coppia con quest'altra ragazza che adesso fa 100 vetrine, Barbara Clara Lei voleva farla cantante Un giorno sono arrivati questi produttori della Emi Latina da Miami Dicendo, vi abbiamo visto un vostro video su YouTube dall'Italia Poi c'è, è pazzesca sta cosa Vogliamo produrre due ragazze italiane e in Latino America perché funziona questa cosa Io non volevo, però lei mi ha guardato con quegli occhioni Che se voi vedete è Viola Castelli, capito? E lei, Barbara Clara di 103, mi ha guardato così e ti prego firma Io ho firmato, però sono contenta, almeno ho visto tutto il mondo e sono tornata a casa con un'esperienza in più Quindi un saluto per tutti gli amici di CityNow CityNow io vi saluto e lui è matto! Lui è matto! Non voglio dire CityNow, lui è matto! E allora Davide, io devo dire che questa serata ormai è andata alla grande Senti come è che le Iucco sta rispondendo alla suono e alla voce di Andrea Neloku E ma sto colma! Beh, le ragazze devo dire che hanno fatto un casino pazzesco Hanno fatto un bellissimo spettacolo Che dire, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per di prossimo Mi raccomando, voi continuate sempre a seguirci Noi facciamo, andiamo anche noi alla consola E noi continuiamo a ballare Per di prossimo, continuate a seguirci sempre solo su CityNow, quindi da Alessandra Giulivo E Davide Lugero E tutto, ciao! Buon divertimento, ciao! CityNow, 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 yeah